E oggi riprendiamo ancora il filo del dialogo con una ospite d'eccellenza che ci porta alle istituzioni europee. Noi tra due mesi andremo a votare, caro Toni, per il rinnovo del Parlamento, che è l'istituzione più democratica, perché siamo noi appunto a mandare i membri, sia pure ancora relativamente a ogni Stato in maniera separata. Però ci sono anche tante maniere di scoprire che queste istituzioni europee vogliono aprirsi, non sono solamente luoghi in cui la burocrazia è ridondante, non c'è magari abbastanza trasparenza, non è così. Ad esempio in questi giorni si è svolto il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo e c'erano anche ospiti importanti come appunto la nostra ospite collegata oggi con noi, Patrizia Giunti, che è presidente della Fondazione La Pira, ma anche della rete Mare Nostrum. Buongiorno Patrizia. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti voi e grazie. E questa fondazione, La Pira, la conosciamo molto bene, ma quello che non conosciamo è la rete Mare Nostrum. La rete Mare Nostrum è la rete che sostiene il progetto Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, composta dalle tre realtà lapiriane fiorentine, la fondazione Giorgio La Pira e insieme l'Opera per la Gioventù e il Centro Internazionale Studenti affiancate dalla fondazione Giorgio La Pira, dalla fondazione Giovanni Paolo II. Sono le quattro realtà alle quali la conferenza episcopale italiana ha affidato il destino di questo Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. un progetto, un'opera segno che la conferenza episcopale italiana ha voluto avalle dei due importanti convegni dei Vescovi del Mediterraneo, Bari 2020 e poi Chirenze 2022. Un'opera segno che vuole essere appunto un momento di continuità importante di questi due eventi legati al Mediterraneo frontiera, frontiera di pace, che investe sul valore della gioventù, sull'importanza, sul ruolo dei giovani, facendo proprio il messaggio del Santo Padre con il Patto Globale per l'Educazione, l'importanza dei giovani e dell'educazione. Questo Consiglio accoglie quasi 40 giovani, poco meno di 40 giovani, rigorosamente under 30, che sono stati designati dalle conferenze episcopali e dai sinodi delle chiese orientali di 20 paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in tre continenti, l'Europa, l'Ara e l'Africa. Questo Consiglio si è costituito a Firenze, proprio nel nome di Lapira, naturalmente, nello scorso luglio, quindi non ha ancora un anno di vita e già è stato ricevuto dalle istituzioni europee particolare dalla Presidente Berta Mezzo. Il suo direttivo, quattro giovani eletti lo scorso luglio, dalla Spagna, dalla Slovenia, dal Libano e dalla Tunisia, accompagnati dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Baturi, e da Don Gianluca Marchetti, il Sottosegretario, sono stati ricevuti dalla Presidente Roberta Mezzo. E poi c'è stato un momento d'incontro molto importante, molto bello, anche con la Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea, presieduta, ed era presente, presieduta da... Un lavoro sinergico, dunque, a fronte di temi così importanti, soprattutto, Maria Pia, per quello che è lo scenario internazionale che stiamo vivendo oggi. Eh sì, Lapira avrebbe fatto qualcosa in più, lei, nel suo intervento, che cosa ha detto, cercando di interpretare il suo spirito profetico? Sì, in realtà, questo progetto nasce proprio nella visione che Lapira ha maturato da un lato, certo, dell'importanza dei giovani, come lui diceva, le rondini che vanno verso la primavera, portatori di un messaggio sicuramente di pace e di fraternità, ma nello stesso tempo il ruolo cruciale del Mediterraneo, il Mediterraneo come bacino di una comunità, che Lapira intendeva come una comunità di destino, come popoli uniti da una visione storica, da una vocazione storica comune, in virtù di quei tre pilastri su cui si fonda la cultura e la civiltà del Mediterraneo, sono tre i pilastri, la comune derivazione abramitica delle tre fedi del Mediterraneo, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, ma insieme il sapere comune ai popoli mediterranei rappresentato dalla filosofia greca e dal pensiero scientifico arabo e la grande forza unificatrice del diritto romano. Questi tre pilastri fanno del Mediterraneo il lago di Tiberiade, come lo chiamava Lapira, ma nello stesso tempo una frontiera per la politica estera italiana e internazionale. Ciò che Lapira aveva negli anni 50 intuito, quando iniziò a convocare a Firenze nel 1958 i colloqui mediterranei, che richiamarono rappresentanti politici, istituzionali, religiosi da 33 paesi dei continenti africani, asiatici e europei, nel segno di un dialogo interreligioso come imprescindibile volano di una pace tra i popoli, ma insieme anche di una collaborazione e di un dialogo fattivo capace di unire il nord e il sud del mondo. Quella vocazione, quella visione che Lapira maturò in quegli anni rappresentano una testimonianza, un messaggio che ha bisogno di essere valorizzato e riproposto nel segno di un'Europa che potrà essere tale, potrà continuare a svolgere un ruolo decisivo sullo scacchiere mondiale se non si chiuderà in se stessa, ma se sarà aperta al continente africano, al continente asiatico, in una vocazione alla costruzione dei ponti, anche nei momenti più bui, più tristi come quelli che stiamo vivendo da due anni a questa parte, a valle dello scoppio dei conflitti che hanno di nuovo attraversato il continente europeo accanto alle tante guerre, quella terza guerra mondiale a pezzi di cui parla con tanto dolore Papa Francesco. I conflitti esplosi nuovamente in Medio Oriente nei territori europei, ci stringono il cuore per un verso ma ci chiamano ad una responsabilità forte per altro e all'impegno che Lapira evocava alla costruzione di occasioni di dialogo. Questi giovani vogliono essere un segnale di speranza in questa direzione. Proprio qui volevo arrivare, considerando il cattivo esempio di taluni grandi, quanto è importante oggi fare affidamento sui giovani? Assolutamente sì, ripeto, è il messaggio che il Santo Padre non esita a rinnovarci costantemente dopo quell'importante progetto rappresentato dal Patto Globale per l'Educazione, nel ruolo dei giovani come costruttori di un mondo che non potrà che scoprire come l'unica opzione realistica, così come ci insegnava Lapira, sia l'opzione della pace e della fraternità. Perché nell'epoca della guerra nucleare, nell'epoca dell'atomica, come la chiamava Lapira, nel mondo nuovo delle armi nucleari, è un'utopia la guerra, cioè immaginare che la guerra possa rappresentare uno strumento di risoluzione delle controversie, e dei contrasti tra i popoli, è autentica utopia, in un momento in cui guerra significa negazione della vita sulla terra, significa distruzione dell'umanità. E dunque l'unica opzione realistica per la quale i giovani possono costituire davvero un messaggio di costruzione del futuro, è l'opzione del dialogo e della fraternità. E questi giovani che... ...della parola utopia generalmente la utilizziamo in relazione a cose che desideriamo, belle ma appunto difficili da realizzare. Mi piace questa inversione del parametro. Tra l'altro la parola avrebbe un'etimologia, nessun luogo, che non è che fa sperare. Invece viceversa oggi abbiamo cominciato proprio facendo gli esempi di cosa vuol dire buttarsi e fare, anche quando le premesse direbbero razionalmente che è un fallimento. Ma Lapira ci ha insegnato moltissimo in questo senso. Torneremo a scoprirlo, anche magari dal punto di vista proprio squisitamente ecclesiale, questa figura di politico santo. Ci sentiamo sempre meglio davanti a persone come lui, come Aldo Moro, insomma nella nostra storia. Abbiamo veramente dei grandi giacimenti anche di speranza. Adesso dobbiamo invece lasciarla, ringraziarla. Mi sembra che avete poi l'inaugurazione tra pochi giorni a Fiesole, proprio di una sede, per questo consiglio. Quindi buona sera per i vostri giovani che stanno in un luogo meraviglioso da tanti punti di vista. Abbiamo anche Nicola, grazie ancora alla nostra ospite. Tra pochissimo... Grazie, buon lavoro Patrizia, arrivederci. Grazie, buon lavoro a tutti voi, grazie. Non so se adesso vogliamo fare subito la sosta pubblicitaria oppure già aggiornarci con il nostro Nicola Morcavallo. Considerando che Nicola è già in postazione dall'altra parte dello studio, gli darei la linea per gli aggiornamenti. Sì, torniamo insieme ma parliamo di notizie di un tenore diverso da quello che purtroppo per certi aspetti la cronaca ci impone, l'attualità legata alla guerra, alle situazioni di cui abbiamo parlato anche in apertura quest'oggi. Alziamo lo sguardo al cielo e lo facciamo attraverso un articolo pubblicato dal Post. Dobbiamo decidere che ora è sulla Luna. Potrebbe sembrare un qualcosa di effimero ma in realtà ci sono delle solide basi scientifiche che costringono gli scienziati a ragionare su questo. Una delle cose che bisogna fare per procedere con il programma spaziale Artemis, pensato per riportare gli esseri umani sulla Luna e stabilire che ora è sul nostro satellite naturale. Una questione più complicata di quanto possa sembrare e la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea, ESA e altre agenzie spaziali internazionali ci stanno lavorando da tempo. Sui giornali se ne riparla in questi giorni perché il 2 aprile il governo statunitense ha diffuso una circolare che riassume le ragioni per cui serve decidere un orario lunare standard entro la fine del 2026, indirizzata alla NASA stessa e a tutte le altre agenzie federali coinvolte. Sulla Luna la forza di gravità è inferiore a quella della Terra perché la Luna ha una massa inferiore a quella del nostro pianeta. La teoria generale della relatività formulata da Albert Einstein nel 1915 mette in relazione gravità, spazio e tempo e comporta che il tempo misurato da due orologi scorre diversamente se sperimentano una trazione gravitazionale diversa come quella della Terra e della Luna. Per un osservatore sul nostro pianeta un orologio lunare va più veloce per via della differenza di gravità. Dunque il programma scientifico ha ambizioni maggiori rispetto alle precedenti missioni Apollo, tra cui la realizzazione del Gateway, una piccola base orbitale che sarà assemblata intorno alla luna e quella di un'eventuale base sul suolo lunare e sul lungo periodo le basi per future missioni verso Marte. A questo punto è necessario che l'orario lunare venga stabilito in modo da coordinare le operazioni ecco in queste missioni. Per decidere il tempo coordinato lunare la NASA, l'ESA e le altre agenzie stanno considerando l'ipotesi di installare degli orologi atomici in punti diversi della Luna. Dunque come dicevamo, al di là di quello che può sembrare un aspetto anche se vogliamo romantico, ci sono degli importanti sviluppi scientifici da analizzare riguardo l'orario sulla Luna. A voi. È molto carina questa notizia, grazie, grazie. Io che amo l'astronomia mi sono beata di questo aggiornamento o magari potessero essere tutti nel segno comunque di notizie appunto lontane da guerra e lutti. Non è possibile che sia così ma noi continuiamo a iniettare speranza anche attraverso il nostro programma. Lo faremo anche tra pochissimo. Restate con noi.